mentre all'interno di 3dx max per esempio ci basterà creare con il pflow un nostro pflow source poi abbiamo un birth che praticamente è il birth real flow file birth dal quale carichiamo la nostra sequenza in bin poi un real flow file update nel quale possiamo anche scegliere quali canali poter fare la nostra per esempio la pressione, la density, la viscosità nel caso avessimo un fluido viscoso possiamo andare a scegliere determinati channel che possiamo attivare poi abbiamo un real flow test death test nel quale va a collegarsi sostanzialmente a un evento che è con un delete che serve per cancellare le particles in eccesso adesso io provo ad andare avanti di 1 ok vediamo che qui ho un warning come limite perché ho il limite del particle flow che sostanzialmente ha dei suoi limiti a livello di memoria come abbiamo visto nel corso 201 particles 201 possiamo andare ad alzare il limite infatti io vi consiglio anche la visione in tal caso se volete approfondire e volete vedere l'interazione delle particles con in 3dx max vi consiglio due corsi sulle particles che sono praticamente uno base sull'introduzione e uno sul p flow e qui abbiamo sostanzialmente la nostra shape la quale possiamo abbassare volendo ancora la dimensione dimensioni più piccole e poi possiamo dare con uno scale sostanzialmente una variazione possiamo dare un po' di variazione per avere una variazione su tutti i vari lati oppure per esempio 80 80 possiamo darla anche direttamente nella nella shape variazione 25 e sopra mettiamo 75 in questo modo avremo una variazione anche nella nella nostra nelle nostre particles possiamo vedere che c'è una leggera variazione però questo è un modo per creare volendo una forma all'interno di 3dx max con il p flow ovviamente il materiale conviene darlo qua direttamente quindi operator material possiamo dare uno static e di conseguenza una volta che abbiamo dato il material stati che gli andiamo ad assegnare qua tranquillamente il nostro materiale quindi basterà cliccare e dare il materiale ovviamente questi sono concetti che possiamo trovare anche nel corso 201 di 3dx max e particles in questo modo possiamo creare questa foam e renderizzarla per poi dopo averla anche già direttamente in fase di rendering